Radio Bruno Beh, è un titolo che riporta una tematica del film e quella la deve scoprire lo spettatore guardando il film e capirà perché la frase si vive una volta sola è una frase molto importante in questo film poi si vive una volta sola e ce lo dovremmo ricordare poi ci sarà un secondo viaggio dell'anima quindi si vivrà probabilmente noi speriamo, no? se siamo credenti dobbiamo credere che l'anima abbia una vita eterna, no? come ci è stato detto oppure chi non crede, quello vive veramente una volta sola e basta però non possiamo saperlo, è così tutto misterioso e si vive una volta sola significa praticamente che tutta la giornata la devi vivere come se fosse il tuo ultimo giorno devi dare un colore, devi dare un motivo anche a una giornata che sembra normale però essere sereno, essere felice e più che altro non angustiarti con progetti a lunga scadenza perché non sai mai il futuro che cosa porta può portare cose meravigliose ma può non portare assolutamente niente o può portare cose opposte quindi vivi di carpe diem vivi di la giornata come si dovrebbe in qualche modo dandogli un senso sono tanti film che ha fatto in prima conferenza stampa questo film è stato definito delicato, elegante ecco come lo definisce? che film è? è un film molto vero secondo me noi siamo stati molto bravi nel entrare bravo nella psicologia del personaggio nell'anima del personaggio che stiamo interpretando e gli abbiamo dato secondo me molta verità io credo che il pubblico poi ritroverà in tante cose del mio personaggio in quello di Anne, in quello di Max, in quello di Rocco tante fragilità, tante debolezze anche tante risate involontari o volontarie insomma che appartengono un po' a tutti il film va definito come una grande storia di amicizia raccontiamo l'amicizia nelle varie sfumature dell'amicizia quindi con i momenti di freddo con i momenti di rottura con i momenti anche abbastanza forti di attrito però alla fine l'amicizia deve trionfare perché vivere senza amicizia è veramente non vivere Ma quale caratteristica? Ma parcheggia la Serena? I giri urbani? L'ufficio di posioni? Mi hanno fregato la macchina Mi hanno occhiato a questa analisi, c'è qualcosa di strano Ma lui lo sa Ma a me deo! Adesso il problema è come dirglielo Voi cosa dovevate dirmi? Si parte e si va in vacanza Che bel regalo che mi avete fatto! Purtroppo non è una vacanza questa Lo dico a te, lo dico a te Mi piacerebbe sapere cosa pensate di me Se vuoi dati con i javeri da su di te No, no, a me da prodere va stamane Ci sono andato a letto No, io spero che tu in questa cazzata Gli abbia detto però la verità Gli hai detta Questa vacanza è diventata una cosa surreale Professore Mario Bruno Un bacione da Carlo Cardone Un abbraccio forte E ricordatevi Si vive una volta sola Quindi godiamoci questa vita